A Torino rifiorisce il mausoleo della bella Rosin con un progetto dedicato alla crescita e alla cura di diversi fiori. Come è nato? È nato con una collaborazione, una grande rete territoriale. Io rappresento qui la Fondazione Mirafiori e come partner abbiamo le biblioteche civiche torinesi che gestiscono il mausoleo della bella Rosin come punto di prestito. Abbiamo Progireg che è un progetto che vi verrà raccontato di investimento, di riqualificazione del territorio sotto il punto di vista delle infrastrutture verdi. Abbiamo una cooperativa, I Passi, che si è occupata grazie alla supervisione di Stefano Olivari della piantumazione delle rose e una madrina di questo evento, Anna Peyron, vivaista e scrittrice, che ha selezionato 15 rose in rappresentanza di 15 scrittrici. 15 scrittrici che sono state scelte dalla comunità delle biblioteche civiche torinesi in onore dei 15 anni di riapertura di questo luogo. È un progetto legato soprattutto anche alla riqualificazione? Sì, è un progetto legato alla riqualificazione in generale del quartiere. I ragazzi dei gruppi appartamento per disabili intellettivi hanno preparato il terreno per le buche dove sono state inserite le rose e poi si prenderanno cura nel tempo della manutenzione delle rose. Come avviene questa manutenzione? Ci sarà da bagnare, da mantenerle in potatura e eventualmente se ci sono delle piccole malattie e segnalarle per poter intervenire al più presto. Si parla non solo di riqualificazione urbana ma anche di rigenerazione urbana, cosa vuol dire? Vuol dire provare a riscoprire quelle che sono le nostre periferie, quelli che sono i luoghi magari meno conosciuti e dargli una nuova vita con le soluzioni basate sulla natura, coinvolgendo i cittadini con le loro idee, con il loro aiuto. Abbiamo qui la cooperativa I Passi che sta facendo la piantumazione con i propri ragazzi e al centro abbiamo la natura. La natura è il segno proprio della rinascita di queste periferie e a Torino Progireg si concentra su Mirafiori Sud. Ha diverse azioni di coinvolgimento e questa è una che si collega anche molto bene sia con la cultura che con Slow Food e quindi il concetto del cioccolatino alla rosa.